Nella sua parte centrale, che è quella più ampia, l'isola di Utopia misura duecento miglia. Anche il resto è all'incirca della stessa larghezza, tranne ai lati, dove si assottiglia a poco a poco. Le sue estremità, smussate e arrotondate, come se le avesse tracciate un compasso, si piegano in una circonferenza di circa cinquecento miglia, e le danno la forma di una luna crescente. Fra le due estremità penetra un braccio di mare della larghezza di circa undici miglia, che poi s'allarga in una specie di grande lago. Questo, circondato dalla terra, e per questo al riparo dei venti, non è mai agitato da grandi flutti, ma è quasi sempre calmo, come una grande laguna stagnante. Ciò ne fa un ottimo porto naturale, che con gran vantaggio degli abitanti può essere navigato in ogni sua parte. Il suo accesso è però reso molto pericoloso dalle secche e dagli scogli. A metà strada, fra le due estremità dell'isola, si erge una gran roccia, che essendo visibile non crea pericoli. Sopra vi è stata costruita una torre in cui risiede una guarnigione di soldati. Tutti gli altri scogli sono a fior d'acqua, e dunque molto pericolosi. I canali che vi si insinuano sono noti soltanto agli utopiani, per cui è difficile che uno straniero, privo della guida di uno di loro, riesca a penetrare in quel porto. Perfino loro stessi non potrebbero entrarci senza grandi rischi, se non fosse per certi segnali che hanno posto sulla riva. Spostandoli potrebbero indirizzare qualsiasi flotta nemica, per quanto numerosa e potente, verso una fine certa. Nelle altre parti dell'isola non è raro trovare porti naturali. Questi sono però talmente ben difesi, per opera della natura o per mano dell'uomo, che pochi assediati potrebbero facilmente respingere un gran numero di nemici. Del resto, secondo le loro tradizioni, e come dimostra la natura del luogo, l'isola non è sempre stata circondata dal mare. Utopo, che essendo nel conquistatore le ha dato il proprio nome, prima veniva chiamata Abraxa, e che guidò quel popolo rozzo all'attuale perfezione per civiltà, umanità e gentilezza, qualità in cui superano ogni altro popolo della terra, volle separarla dal continente, al quale era unita da un braccio di terra largo quindici miglia. Realizzò il suo proposito scavando il braccio di terra in modo che il paese fosse circondato da ogni parte dal mare. Per questo fece lavorare non solo gli abitanti locali, ma per non farlo sembrare un segno di disprezzo i suoi stessi soldati. In questo modo l'opera, affidata a un numero così grande di persone, fu portata a termine con sorprendente rapidità, tanto che i confinanti, che in un primo tempo li schernivano, ritenendo inutile tutta quella fatica, ne rimasero stupefatti e impauriti. Nell'isola ci sono cinquantaquattro grandi e belle città, unite da un'unica lingua, dagli stessi costumi e dalle medesime leggi. Hanno tutte piani identici e struttura pressoché uguale, per quanto lo permette la natura del terreno su cui sorgono. Quelle più vicine sono separate da circa ventiquattro miglia, ma in ogni caso non c'è più di un giorno di marcia fra una città e l'altra. Ogni anno tre saggi anziani si recano da ogni città ad Amauroto, per discutere e dibattere i problemi del paese. Questa città, che è proprio al centro del regno e quindi più comoda per l'incontro dei rappresentanti di tutte le altre, viene considerata la capitale. I contadi di ogni città sono così ben distribuiti che nessuna ha intorno a sé meno di dodici miglia di terreno in ogni direzione, e alcune molto di più, se la loro distanza da altre città è particolarmente grande. Nessuna desidera ampliare i propri confini, perché si considerano più coltivatori della terra che i suoi padroni. Nei campi del contado ci sono case appositamente costruite e fornite ad ogni tipo d'attrezzatura agricola, dove i cittadini vanno ad abitare a turno. Nessuna casa di campagna accoglie meno di quaranta persone, uomini e donne, nonché due schiavi. Tutti obbediscono al padre e alla madre di famiglia, persone sagge e mature. Ogni nucleo costituito da trenta famiglie è sotto il controllo di un filarca. Ogni anno, da queste famiglie, tornano in città le venti persone rimaste in campagna per un biennio. Subito vengono sostituite da altrettante persone che fino ad allora hanno vissuto in città. Quelli rimasti in campagna per almeno un anno li istruiranno sull'agricoltura, mentre l'anno successivo saranno loro stessi a insegnare ai nuovi venuti. In questo modo si evita che l'inesperienza di tutti possa causare cattivi raccolti o altri problemi del genere. L'usanza di dare ogni anno il cambio a quelli che si occupano d'agricoltura è rispettata in maniera solenne, affinché non succeda mai che qualcuno si trovi costretto contro la propria volontà a un lavoro tanto faticoso e duro. A molti, tuttavia, l'agricoltura piace tanto che ottengono di praticarla per un numero maggiore di anni. Chi vive in campagna ara e coltiva la terra, alleva il bestiame e provvede al legname, che viene trasportato nelle città via terra o via acqua, a seconda di quale sia il modo più conveniente in quel luogo e in quel momento. Allevano un numero enorme di polli, con un artificio stupefacente, non fanno covare le uova, ma le fanno dischiudere loro stessi, mantenendone grosse quantità a una temperatura costante. I pulcini, poi, appena usciti dal guscio, seguono le donne e gli uomini invece che le galline. Allevano pochi cavalli, e solo di quelli molto focosi, perché li usano solo per educare i giovani ai giochi equestri. Impegnano invece tutte le proprie forze nell'allevamento dei bovini, che pur riconoscendone la minor vivacità rispetto ai cavalli, reputano più resistenti sia alle fatiche sia alle malattie. Inoltre, pensano che mantenerli costi meno fatica e denari, e quando non servono più come bestie da lavoro, possono essere trasformati in alimento. Coltivano solo il grano necessario per il pane. Infatti, le loro bevande sono vini d'uva, di mele e di pere, o semplice acqua fresca, oppure bevande ottenute dall'infusione in acqua di miele o liquerizia, di cui dispongono in abbondanza. Benché sappiano calcolare con certezza, e in questo non sbagliano, quale sia il fabbisogno della città e della campagna, seminano molto più grano e allevano molto più bestiame di quello che è loro necessario. In questo modo possono distribuire il sovrappiù fra i vicini. Tutto ciò che di necessario non possono produrre da sé, lo importano dalla città, e ottengono tutto ciò che desiderano dai suoi magistrati, senza dar nulla in cambio. Infatti, ogni mese, si recano tutti in città per il giorno di festa. Quando si avvicina il giorno del raccolto, i filarchi dell'agricoltura comunicano alle autorità cittadine il numero di persone che è necessario mandare dalla città alle campagne per recare aiuto nel lavoro. I miei titori richiesti arrivano puntualmente in gran numero, tanto che un solo giorno di bel tempo basta per sbrigare quasi tutto il lavoro. Le città, e in particolare a Mauroto. Quanto alle loro città, chi ne ha vista una, le ha viste tutte. Sono infatti identiche, almeno per quanto lo permette la natura del luogo in cui sono costruite. Ve ne descriverò dunque soltanto una, non importa molto quale. Ma allora perché non a Mauroto? Di tutte è la più rispettata, perché vi ha sede il Senato, e quella che conosco meglio e amo di più, essendoci vissuto ininterrottamente per cinque anni. A Mauroto sorge su un dolce pendio, e ha una forma quasi quadrata. Si estende da sotto la cima della collina fino al fiume Anidro, per una lunghezza di circa due miglia. Il lato che si affaccia sul fiume è invece un po' più lungo. L'Anidro nasce da una piccola fonte, 80 miglia a monte di Mauroto. Alimentato da molti piccoli affluenti, e da due fiumi di discrete dimensioni, però, raggiunge un'ampiezza di mezzo miglio nei pressi della città, e più avanti è ancora più largo. Si getta nell'oceano 60 miglia al di sotto di Mauroto. Nello spazio fra la città e il mare, e qualche miglio più a nord della città stessa, il flusso e il riflusso della marea si alternano per sei ore con rapida corrente. Quando la marea salza, il letto dell'Anidro viene invaso dall'acqua salata per un tratto di 30 miglia. L'acqua dolce viene spinta indietro, e anche per un certo tratto a monte viene a contatto con la salsedine. Quella che bagna la città, tuttavia, è dolce e limpida. Quando la marea s'abbassa, invece, l'acqua torna a scorrere verso l'oceano, rimanendo dolce sin quasi alla foce del fiume. Le due rive sono collegate da un ponte, che non è di legno o sostenuto da pilastri, ma costruito con splendidi archi di pietra nella parte della città più distante dal mare, in modo che le navi possano attraversarla tutta senza problemi. C'è anche un altro fiume, che non è certo grande, ma scorre placido e sereno. Nasce dalla stessa collina su cui serge la città, scorre lungo i suoi fianchi, e si getta infine dentro l'Anidro. Siccome la sua fonte è un po' caldi fuori delle mura, gli amaurotiensi l'anno cinta con fortificazioni che la congiungono alla capitale, e questo per evitare che, nell'eventualità di un assalto, i nemici possano bloccarla, deviarne il corso o avvelenarla. Di lì l'acqua è condotta alle parti inferiori della città per mezzo di canaletti di terracotta. Dove la natura del terreno non lo permette, usano invece grandi cisterne per raccogliervi l'acqua piovana. La città è cinta da mura alte e massicce, cosparse di torri e bastioni. Un fossato asciutto, ma profondo e reso inagevole dai numerevoli siepi spinose, segue per tre lati il perimetro esterno delle mura. Il quarto lato della città si affaccia sul fiume, che la protegge come un fossato. Il piano delle piazze, degli edifici e delle strade è bello e comodo, sia per la circolazione dei carri, sia per contrastare i venti. Le case si estendono ai lati delle strade in lunghe file, senza alcuna interruzione o separazione, e sono bellissime da vedere. Le strade sono larghe venti piedi. Dietro alle file di edifici, per l'intera lunghezza degli isolati, ci sono giardini circondati da ogni parte dal retro di altri edifici. Ogni casa ha due ingressi. Quello anteriore si affaccia sulla strada, e quello posteriore sul giardino. Le porte hanno due battenti, che non vengono mai chiusi o serrati, s'aprono alla minima pressione di una mano, e si richiudono immediatamente da sé. Che entri pure chiunque, tanto non esiste alcuna proprietà privata. Ogni dieci anni, gli abitanti si scambiano le case, tirando a sorte. Dedicano molte cure ai giardini. Vi coltivano viti, frutta di tutti i tipi, ortaggi, fiori così belli e ben curati, che non ho mai visto niente di tanto rigoglioso e splendido. Il loro impegno non nasce solo dalla passione, ma anche da una certa rivalità fra quartiere e quartiere nella cura dei rispettivi giardini. Certamente, in tutta la città, non c'è nulla di altrettanto utile alla comunità e piacevole allo stesso tempo. È chiaro che il primo fondatore della città non aveva nulla di più caro di questi giardini. Si dice che, fin dal principio, Utopo in persona ideò e descrisse come la città avrebbe dovuto essere costruita, dandole la struttura che conserva tuttora. Sapendo, tuttavia, che la vita di un solo uomo sarebbe stata insufficiente, lasciò alla cura dei posteri gli abbellimenti e i perfezionamenti che si possono ammirare oggi. Infatti, i loro annali, che compilati e conservati accuratamente abbracciano 1760 anni di storia fin dalla prima conquista dell'isola, raccontano che in principio le case erano basse, simili a quelle di poveri pastori, costruite alla buona con legna di modesta qualità, muri di fango e tetti a punta fatti di paglia. Ma ora sono tutte splendide, a tre piani, coi muri esterni in cemento, mattoni o pietra lavorata e rese stabili dal riempimento delle intercapedini con macerie. I tetti sono piatti, coperti da un tipo di bitume poco costoso, ma talmente resistente che non teme il fuoco e contrasta la violenza degli agenti atmosferici meglio del piombo. Le abitazioni sono protette dal vento con finestre di vetro, materiale molto utilizzato in quel paese, oppure con fini tessuti di lino imbevuti d'olio o ambra, che perciò hanno due vantaggi, soppongono meglio al vento e fanno filtrare più luce. I magistrati Tutti gli anni ogni gruppo di 30 famiglie elegge un magistrato che nell'antica lingua locale chiamavano Sifo Granto, ma viene oggi chiamato Filarca. Dieci filarchi, con le loro 300 famiglie, sono soggetti a un magistrato che un tempo era chiamato Traniboro, ma che oggi chiamano Proto-Filarca. Riguardo all'elezione del magistrato supremo, poi, tutti i Sifo Granti, che sono 200, devono prima giurare di eleggere quello che riterranno il migliore. Poi, con un suffraggio segreto, lo scelgono fra i quattro candidati indicati dal popolo. Infatti, divisa la città in quattro zone, viene scelto in ogni zona un aspirante da presentare davanti al Consiglio. Il magistrato supremo rimane in carica vita natural durante, a meno che non sia deposto perché è sospettato di aspirare alla tirannia. I Tranibori sono nominati ogni anno, ma non vengono cambiati senza un buon motivo, e tutte le altre cariche sono annuali. I Tranibori si riuniscono in Consiglio con il Magistrato Supremo ogni tre giorni, anche più spesso se necessario. Il Consiglio si occupa della Repubblica. Se ci sono controversie fra i cittadini, cosa che capita di rado, le prende in considerazione e le risolve immediatamente. Nel Consiglio vi sono sempre due Sifo Granti, ogni giorno una nuova coppia. Nulla che riguardi il pubblico interesse può essere confermato o ratificato se non se n'è discusso in Consiglio per almeno tre giorni. È proibito appena la morte tenere qualsiasi consultazione sulla Repubblica al di fuori del Consiglio o del luogo prestabilito per le pubbliche elezioni. Questa regola, dicono, fu pensata per impedire che il Magistrato Supremo e i Tranibori cospirassero per opprimere il popolo con la tirannide o per cambiare la Costituzione della Repubblica. Le questioni di grande importanza vengono esposte ai Sifo Granti che a loro volta spiegano ogni cosa alle proprie famiglie. Poi, dopo essersi consultati fra loro, esprimono la propria opinione al Consiglio. A volte la questione viene risolta consultando l'intera isola. Nel Consiglio vige anche l'abitudine di non discutere alcun argomento il giorno stesso in cui viene esposto, ma di rimandare alla seduta seguente. Questo affinché nessuno, dopo aver dato un giudizio affrettato, si ingegni per trovare argomenti che supportino una sua frase stupida invece che per il bene della Repubblica, preferendo un danno allo Stato piuttosto che alla propria reputazione e non volendo, per falso pudore, dar l'idea di avere in principio considerato superficialmente un argomento quando avrebbe fatto meglio a non parlare senza aver ponderato la cosa invece che farlo subito e avventatamente. I mestieri Un'arte che tutti, uomini e donne, conoscono molto bene è l'agricoltura. La imparano fin dalla giovinezza, in parte apprendendo nelle basi a scuola, in parte esercitandola quasi per gioco nelle campagne vicine alla città. In questo modo non solo ne imparano la teoria, ma allenano anche i propri corpi nella pratica. Oltre a ciò ognuno di loro si specializza in un'attività particolare. Generalmente si occupano della lavorazione della lana e del lino, oppure diventano muratori, fabbri o falegnami. Non ci sono presso di loro altri mestieri degni di nota. I loro abiti sono infatti uguali in tutto il paese, tranne che per le differenze d'abbigliamento fra i due sessi e fraccelli biesposati e sempre identici per tutte le età. Ciò non toglie che siano graziosi a vedersi e seguono bene i movimenti del corpo, risultando comodi d'estate come d'inverno. Ogni famiglia si fabbrica da sé gli abiti, mentre, riguardo agli altri mestieri, ogni uomo e anche ogni donna ne apprende uno in particolare. Le donne, essendo più deboli, si dedicano alle attività meno faticose, come la lavorazione della lana e del lino. Gli altri lavori, quelli più duri, sono esercitati dagli uomini. Nella maggior parte dei casi apprendono il mestiere paterno perché vi sono naturalmente inclinati, ma se qualcuno vuol fare un lavoro diverso, viene adottato dalla famiglia in cui si pratica l'attività da lui scelta. In questo caso non solo suo padre, ma anche i magistrati si assicurano che egli venga accolto da un capo famiglia onesto e buono. Se poi qualcuno, dopo aver appreso un mestiere, ne vuole imparare anche un altro, glielo si permette con le stesse modalità. Quando li ha appresi entrambi, può decidere di esercitare quello che preferisce, a meno che alla città ne sia utile uno più dell'altro. Il principale, quasi unico, compito dei sifogranti è di controllare che nessuno si abbandoni all'ozio, ma che tutti facciano il proprio dovere impegnandosi al massimo, senza però ammazzarsi di fatica lavorando come bestie dall'alba al tramonto, perché una condizione simile è peggiore della schiavitù. Eppure è quella che accomuna operai artigiani in ogni paese, tranne che a utopia. Infatti laggiù dividono il giorno in ventiquattro ore uguali e ne assegnano soltanto sei al lavoro. Lavorano tre ore prima di pranzo, dopodiché mangiano e dedicano due ore al riposo, quindi lavorano per altre tre ore e infine cenano. Contando la prima ora dal mezzogiorno, si coricano verso le otto di sera e dormono otto ore. Ognuno trascorre come meglio crede il tempo che avanza dal lavoro, dai pasti e dal riposo, non però in lascivie o altre occupazioni inique, ma essendo libero dalla fatica corporale, impegnandosi utilmente in cose piacevoli e proficue. Spesso nei momenti liberi si dedicano alle lettere. secondo una loro solenne tradizione, infatti, ogni mattina prima dell'alba tengono pubbliche lezioni a cui deve obbligatoriamente intervenire solo chi viene espressamente prescelto per gli studi. Nonostante ciò, alle lezioni si recano in gran numero molti uomini e donne d'ogni estrazione. Chi ha questa, chi ha quella, ognuno seguendo la propria inclinazione. Se però qualcuno preferisce dedicare il tempo libero al proprio mestiere, come succede a molti cui intelletti non raggiungono l'elevazione contemplativa richiesta dalle arti e dalle scienze, non glielo impediscono, anzi, lo lodano perché è utile alla Repubblica. Dopo cena dedicano un'ora ai giochi, d'estate nei giardini ed inverno nei refettori comuni. Questi intrattengono con musiche o conversazioni oneste e buone. Non conoscono i dadi o altri passatempi stupidi e dannosi, ma hanno due giochi che somigliano in certo modo agli scacchi. Uno è la battaglia dei numeri, in cui ogni numero ne rapisce un altro. Nell'altro i vizi e le virtù si scontrano fra loro come due eserciti armati. In quest'ultimo si vede molto bene l'inimicizia che normalmente i vizi hanno l'uno contro l'altro e la loro compattezza quando devono combattere le virtù, nonché quali vizi siano tanti per quali virtù, con quale forza le assaltino apertamente, con quali veleni le assalgono segretamente, quali macchinazioni e quali risorse permettano alle virtù di sconfiggere i vizi, con quali arti ne vanifichino gli sforzi e infine come una delle due parti esca vittoriosa dalla battaglia. Ma ora considerate attentamente una cosa, altrimenti potreste ingannarvi. Infatti, sapendo che dedicano solo sei ore al lavoro, potreste pensare che ne derivi una carenza dei beni. Non è così, perché quel numero limitato di ore non solo è bastante, ma persino eccessivo, per avere di che vivere comodamente. Di questo vi renderete conto se penserete al gran numero di persone inattive che c'è negli altri paesi. Consideriamo in primo luogo quasi tutte le donne, che sono più della metà della popolazione. Laddove le donne hanno una qualche occupazione, allora sono gli uomini a non far nulla. Poi la gran folla oziosa dei sacerdoti e di quelli che si fanno chiamare uomini di chiesa. Aggiungiamoci i ricchi, specialmente i proprietari terrieri, che la gente di solito chiama gentiluomini o nobili. Mettiamo nel numero anche i loro servitori, cioè quel branco di fannulloni e spadaccini senza mestiere che li attorniano. Aggiungiamoci certi robusti accattoni che nascondono la loro esistenza oziosa sotto la vernice di qualche malattia o menomazione. A questo punto vi renderete davvero conto che le cose di cui gli uomini hanno bisogno per vivere sono prodotte dal lavoro di pochi. Ora considerate in cuor vostro quanto pochi sono, dei pochi che lavorano, quelli che fanno mestieri veramente necessari. Infatti, dove tutto si misura sul denaro, nascono occupazioni inutili e superflue a servizio del lusso e dei capricci. Se lo stesso numero di quelli che lavorano ora venisse distribuito nelle poche occupazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari, i prezzi di ciò che produrrebbero diverrebbero così bassi da non dare di che vivere alle loro famiglie. Ma se quelli che ora sprecano il proprio tempo in attività inutili, nonché la turba degli oziosi ramolliti che consuma il doppio fra ciò che è prodotto dal lavoro altrui di quanto rimanga a chi lavora, fossero impegnati in attività utili, vedete da voi quanto poco tempo sarebbe necessario, addirittura eccessivo, per produrre tutto ciò che serve per vivere comodi e certo felici qualora si tratte di felicità naturale e buona. A utopia tutto ciò è chiaro e manifesto. Infatti fra tutti gli uomini e le donne della città e del territorio circostante ce ne sono meno di 500 che pur non essendo né troppo vecchi né troppo deboli non sottostanno all'obbligo del lavoro. Fra loro ci sono i sifogranti che pur essendone esentati per legge non esercitano questo diritto per dare a tutti un buon esempio. Godono dello stesso privilegio quelli che la gente per raccomandazione dei sacerdoti e votazione segreta dei sifogranti ha dispensato dal lavoro per motivi di studio. Ma se uno di loro delude le aspettative che si nutrono nei suoi confronti viene immediatamente reintegrato fra le file degli operai. D'altro canto succede spesso che un operaio dedichi le ore libere allo studio conseguendo risultati tali da passare nelle file degli studiosi. Fra di loro vengono scelti ambasciatori sacerdoti tranibori e infine lo stesso magistrato supremo. Questi nella loro lingua antica era chiamato barzane mentre oggi lo chiamano ademo. Poiché il resto del loro popolo non è né ozioso né impegnato in attività inutili sarà facile immaginare quanto poco tempo sia necessario per sbrigare molto lavoro. Inoltre hanno il vantaggio che nella maggior parte dei mestieri necessari hanno bisogno di meno lavoro rispetto ad altri paesi. Altrove infatti gli edifici impiegano continuamente per la manutenzione molti uomini. Questo perché l'erede poco previdente permette che la casa del padre crolli lentamente per l'abbandono. In questo modo il suo successore dovrà ricostruire con grandi spese un edificio che semplici cure poco onerose avrebbero potuto salvaguardare. Anzi spesso c'è chi è così raffinato da disdegnare abbandonandola a se stessa la casa che un altro aveva costruito con grandi spendio di denaro. Questa crollerà per l'incuria mentre lui ne costruirà un'altra in un luogo diverso spendendo altrettanto denaro. Ma fra gli utopiani dove tutto è ordinato e ben gestito succede molto raramente che si scelgano nuove aree dove costruire altri edifici. Infatti essi non solo riparano i danni man mano che si presentano ma si sforzano anche di prevenirli. Così i loro palazzi durano a lungo e richiedono pochissima fatica tanto che spesso chi esercita questo tipo di mestiere si trova senza nulla da fare. In quel caso però gli si fa piallare il legname in bottega o squadrare e preparare le pietre in modo che quando vi sarà necessità di un lavoro sia portato a termine più in fretta. Riguardo ai loro abiti è evidente quanto poco tempo richieda la loro confezione. Infatti sul posto di lavoro sono rozzamente coperti di cuoio e pelli che durano sette anni. In pubblico celano queste pelli con un mantello che è ovunque dello stesso colore ossia quello naturale della lana. Quindi non solo usano molto meno lana che in altri paesi ma questa gli risulta anche meno costosa. I tessuti di lino poi richiedono meno lavoro per essere realizzati e sono perciò più utilizzati. Del lino apprezzano il candore della lana la purezza ma non si curano per nulla della finezza dei tessuti. Per questa ragione altrove 4 o 5 toghe di colori diversi e altrettante tuniche di seta non bastano a un solo uomo. Se poi è particolarmente raffinato 10 sono ancora troppo poche. Fra loro invece ognuno s'accontenta di una sola veste che generalmente gli dura due anni. Perché infatti dovrebbe desiderarne altre? Non c'è alcun motivo per possederne di più. Averle non significherebbe trovarsi meglio difesi dal freddo né più eleganti. Così avendo abbondanza ad ogni cosa perché tutti fanno lavori utili e senza sprechi di tempo è naturale che ogni tanto vengano convocati in gran numero a riparare le strade pubbliche se capita che abbiano dei danni. Più spesso tuttavia quando non c'è bisogno di interventi simili viene proclamata una riduzione dell'orario di lavoro. Infatti i magistrati non costringono i cittadini a fatiche superflue contro la loro volontà. Perché dovrebbero? La costituzione della loro repubblica ha come primo scopo questo. Tutto il tempo che non è strettamente necessario agli interessi dello Stato dovrebbe essere usato dai cittadini per sottrarsi alla schiavitù del corpo dedicandosi alla libertà dello spirito e alla cultura. Secondo loro è così che si raggiunge la felicità in questa vita. I rapporti sociali Ora dirò come si comportano gli uni con gli altri quali sono i rapporti fra le persone e come avviene la distribuzione d'ogni cosa. In primo luogo la città è formata da famiglie solitamente costituite da vincoli di sangue. Quando si sposano infatti se hanno l'età giusta le donne vanno a vivere in casa del marito. I figli maschi invece come tutti i discendenti di questo sesso rimangono sempre nella stessa famiglia. Il capo famiglia è il maschio più anziano a meno che la sua mente non vacilli per la vecchiaia. In questo caso lo sostituisce quello che gli è più vicino per età. Per evitare che il numero prescritto di cittadini non cali né cresca mai oltre misura è stabilito che nessuna famiglia in ogni città non contando le campagne circostanti ce ne sono 6.000 abbia meno di 10 o più di 16 figli adulti. Per i fanciulli infatti non si può fissare alcun limite. Questa regola viene facilmente osservata assegnando i figli delle famiglie più numerose a quelle meno numerose. Se capita che tutta una città superi il numero prestabilito di nuovi nati questi vengono mandati in un'altra che non ne ha abbastanza. Quando poi gli abitanti dell'intera isola divengono troppo numerosi ne scelgono alcuni che vadano a vivere in una città costruita sulla più vicina terraferma dove ci sono molti terreni incolti e abbandonati. La nuova città osserva le stesse leggi dell'isola e accoglie qualora lo vogliano anche gli indigeni del luogo. In tal caso i due popoli unendosi e vivendo insieme si abituano presto agli stessi usi e costumi e questo con gran vantaggio di entrambi. Infatti gli utopiani con le loro leggi fanno presto sì che una terra precedentemente inutile e insufficiente a nutrire gli indigeni arrivi a sostenere entrambe le popolazioni. Ma se gli abitanti della zona non accettano di vivere con loro e secondo le loro leggi allora li cacciano dal territorio che hanno preso per sé. Se quelli si rifiutano o si ribellano li combattono. Infatti sono convinti che non ci sia guerra più giusta di quella contro chi mantiene una terra improduttiva impedendo ad altri di possederla e coltivarla quando è legge di natura che la si possa sfruttare per ricavarne di che vivere. Se la popolazione di una delle loro città diminuisce tanto da non essere possibile reintegrarla senza diminuire eccessivamente quella delle altre cosa che a loro dire è successa solo due volte dalla fondazione del paese per via di una pestilenza allora richiamano in patria gente dalle colonie. Infatti preferiscono la perdita di una città coloniale al disagio di una della madrepatria. Tornando ai rapporti fra le persone il più anziano come ho già detto è il capofamiglia le mogli servono i mariti i figli i genitori e in generale i giovani obbediscono ai più vecchi. Ogni città è suddivisa in quattro aree uguali al cui centro c'è un mercato fornito ad ogni sorta di cose. Qui i prodotti del lavoro d'ogni famiglia vengono portati in determinati edifici per essere divisi a seconda del genere e riposti nei magazzini. Da questi ciascun capofamiglia prende quello di cui lui e i suoi hanno bisogno portandoselo via senza dare in cambio denaro né prestazioni particolari. Perché bisognerebbe negargli alcunché visto che c'è abbondanza di tutto e non c'è da temere che qualcuno chieda più del necessario? Perché dovrebbe prendere più di quanto gli basti sapendo che non gli verrà mai a mancare nulla? Mentre tutti gli altri esseri viventi diventano avidi e rapaci per timore della mancanza l'uomo lo è in virtù della sua superbia per la quale si gloria di superare gli altri nell'inutile ostentazione del superfluo. Questo vizio non è presente fra gli utopiani. Vicino ai mercati di cui ho parlato ci sono quelli alimentari dove si portano non solo frutta ortaggi e pane ma anche tutte le specie di pesce quadrupedi e uccelli selvatici commestibili. Per prima cosa però si detergono al fiume in luoghi esterni alla città scelti appositamente per questo. Da qui gli animali vengono portati al mercato dopo essere stati uccisi e puliti dagli schiavi. Infatti non vogliono che i cittadini si abituino ad uccidere gli animali perché pensano che così si soffochi anche la pietà una dote tanto gentile quanto propria della nostra natura. Non permettono neppure che si introduca nella città alcun chiedi sudicio o immondo per paura che l'aria venendone ammorbata possa diffondere qualche malattia. In ogni strada ci sono poi certi grandi saloni distribuiti a intervalli regolari e conosciuti per nome negli stessi palazzi dove abitano i sifogranti. A ogni salone fanno capo trenta famiglie quindici per lato che ci si recano a mangiare. A un'ora prestabilita i cucinieri di questi palazzi vanno al mercato alimentare dove ricevono cibo bastante ai componenti delle rispettive famiglie. Per prima cosa tuttavia ci si prende cura dei malati ricoverati negli ospedali. Infatti vicino alla città appena fuori delle mura hanno quattro ospedali tanto grandi e capaci che sembrano quattro piccole cittadine. Questo affinché qualunque sia il numero degli ammalati li si possa sistemare comodamente e perché chi soffre di mali contagiosi rimanga separato dalla comunità. Gli ospedali sono così ben allestiti in possesso d'ogni mezzo per combattere le malattie fornite dei migliori dottori e dei più zelanti infermieri che benché nessuno vi sia ricoverato contro la propria volontà non c'è nessuno che in caso di malattia preferisca giacere nel letto di casa propria piuttosto che in quello di un ospedale. Dopo che i cucinieri degli ospedali hanno ricevuto gli alimenti prescritti dai medici ai malati il meglio di ciò che resta viene equamente suddiviso fra i palazzi proporzionalmente al numero dei familiari di ognuno viene usato particolare riguardo solo per il magistrato supremo i tranibori gli ambasciatori il vescovo ed eventuali visitatori stranieri ce ne sono pochi e molto di rado questi ultimi quando visitano utopia dispongono di bellissime abitazioni espressamente riservate a loro all'ora di pranzo e a quella di cena uno squillo di tromba avverte tutta la sifograntia che a eccezione di chi giace malato all'ospedale o in casa propria si riunisce nel proprio salone comunque una volta che i palazzi sono stati serviti non è proibito a nessuno di andare al mercato e portarsi il cibo a casa infatti sanno che nessuno lo farà senza un buon motivo perché anche se non c'è alcun divieto in questo senso è opinione comune che mangiare a casa sia poco educato d'altronde sarebbe stupido far fatica per preparare un pasto mediocre a casa quando ce n'è uno prelibato così a portata di mano nei saloni i lavori pesanti e umili sono sbrigati dagli schiavi la preparazione della tavola e delle pietanze però è affidata alle donne di ogni famiglia che se ne occupano a turno siedono a due o tre tavole secondo le dimensioni della compagnia gli uomini sulla panca contro il muro e le donne su quella di fronte in questo modo se a una di loro capita un contrattempo improvviso come spesso succede a quelle con figli possono alzarsi senza disturbare nessuno e dal refettorio raggiungere le nutrici queste se ne stanno in disparte con i lattanti in una stanza sempre fornita ad un fuoco d'acqua limpida e di numerose culle in modo da poter cullare i bambini tutte le volte che vogliono levar loro le fasce esporli al calore del fuoco o rallegrarli con qualche gioco ogni madre fa da nutrice ai propri figli a meno che una malattia o la morte glielo impediscano in questi casi la moglie del sifo granto provvede immediatamente a trovare una nutrice per il bambino non è una cosa difficile perché quelle in grado di farlo preferiscono rendere un simile servizio a qualsiasi altra cosa infatti laggiù questa forma di pietà è apprezzata più che mai e il bimbo allattato considera la nutrice come una vera madre insieme con le nutrice stanno anche tutti i bambini al di sotto dei 5 anni di età tutti gli altri fanciulli e fanciulle non ancora in età da nozze servono in tavola o se troppo giovani per farlo rimangono in piedi in assoluto silenzio mangiando quel che viene offerto loro da chi è seduto e soltanto nelle ore prefissate per i pasti il sifogranto e sua moglie siedono nel mezzo del primo tavolo che è il posto d'onore e permette di vedere tutti i convitati infatti è disposto obliquamente nella parte più rialzata della sala con loro siedono due fra i più anziani perché ogni tavola è per quattro persone ma se nella sifograntia c'è un tempio allora insieme con il sifogranto ci sono il sacerdote e sua moglie a presiedere la compagnia di fianco a loro siedono da entrambi i lati gruppi di giovani che si alternano a gruppi di anziani così che nel salone persone della stessa età si trovino vicine fra loro e nello stesso tempo vicine a persone d'età diversa si dice che ciò sia stato deciso perché la serietà e la venerabilità degli anziani prevenga i giovani dal prendersi troppe libertà nelle parole e nei gesti infatti non c'è nulla che possa essere sussurrato o fatto a un lato della tavola senza essere veduto o udito da chi siede all'altro lato i piatti non vengono serviti a partire dal primo posto a sedere ma prima si offrono agli anziani i cui posti sono riconoscibili grazie a un contrassegno le vivande migliori poi si servono tutti gli altri gli anziani distribuiscono i cibi più prelibati che non bastano a tutti fra i giovani che siedono vicini a loro in questo modo i più vecchi non sono privati del rispetto che si deve loro ma allo stesso tempo tutti ne hanno vantaggio cominciano ogni pasto leggendo qualcosa di educativo ma non troppo lungo per non annoiare nessuno poi gli anziani avviano qualche discorso edificante che non sia però mai triste o spiacevole non occupano tutto il tempo del pasto con discorsi lunghi e noiosi ma ascoltano con piacere anche i più giovani e anzi li spingono di proposito a parlare perché in questo modo possono rendersi conto dell'animo e delle virtù di ognuno cose che si rivelano più facilmente nella libertà e spensieratezza di un banchetto i pranzi sono molto brevi ma le cene durano più a lungo infatti dopo pranzo vanno a lavorare mentre dopo cena vanno a dormire o riposano cosa che ritengono massimamente utile a una buona e sana digestione non cenano mai senza musica e alla fine del pasto ci sono sempre dolci e frutta in abbondanza bruciano incenso e spruzzano tutti intorno unguenti profumati senza tralasciare nulla perché la compagnia stia bene insieme infatti a loro parere nessun piacere deve essere proibito se non provoca danni questo è dunque il modo in cui vivono insieme nelle città nelle campagne vivono invece da soli lontani da tutti i vicini per cui mangiano nelle loro case in effetti a nessuna famiglia manca di che vivere visto che è da lì che viene tutto quello di cui si nutrono i cittadini